Sì, non c'è stato tre ore, sceglie voi così. Allora, quello senza capelli, eh scusate. Ma che ne sao ogni? Che c'è qua ci che c'è? Ma che c'è tutto il mio? Che c'è un cuore? Tu non mi sembra? Che c'è un cuore? Che c'è? Mi sembra? Che cosa vuoi? Che vuoi? Non, non, non. Che vuoi? Prodono ma davvero ci sta dicendo vi ricordo che tutto ciò finirà su internet e non vi la vede di passare vai il giallo vai il giallo vai il giallo è bellissimo Trasformazione, ma che c'è stato facendo? Sì, stai vincendo la prova video, quindi si vinci pure l'astra! Formazione! Fusione, voglio! Sì, stai vincendo la prova! 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 Sì, stai vincendo la prova!